Sequestri per 500.000 euro, nuova operazione della Guardia di Finanza di Fano. Vaccini al personale scolastico dal 1 marzo, l'annuncio dell'assessore Salta Martini. Via libera per il bonus Tari, domande aperte dal 20 febbraio. Verità per Giulio Reggeni, lo scientifico incontra i genitori del ricercatore ucciso in Egitto. La Guardia di Finanza di Fano Le 20.40. Subito in apertura la cronaca con un'importante operazione della Guardia di Finanza di Fano che ha portato al sequestro di beni per un valore di circa 500.000 euro nei confronti di un imprenditore che aveva evaso le tasse per due anni di seguito. Allora vediamo tutto in questo primo servizio di Daniele Romagna. Aveva evaso le tasse per due anni di fila, più di 220.000 euro nel 2016 e quasi 270.000 nel 2017, occultando la reale situazione contabile che è stata ricostruita grazie alle mirate indagini della Compagnia della Guardia di Finanza di Fano. Nel mirino delle fiamme gialle il titolare di una ditta individuale, classe 1964, residente nella frazione Lucrezia di Cartoceto. La Guardia di Finanza di Fano ha eseguito un decreto di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di Pesaro. Nei confronti di una ditta risultata essere evasore totale perché per gli anni di imposto a 2016 e 2017 non ha presentato la dichiarazione dei redditi e ha occultato le scritture contabili. I finanzieri di Fano, su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Pesaro, hanno quindi provveduto al sequestro preventivo di beni appartenenti all'imprenditore per un importo equivalente a quello evaso e dunque di circa 500.000 euro. Ad essere sottoposto alla misura di sequestro, il denaro presente sui conti correnti bancari dell'uomo, due terreni situati nel comune di Terre Roveresche, due automobili e tre motocicli. Attualmente sono in corso ulteriori accertamenti per l'individuazione di altri beni e disponibilità riconducibili all'evasore. L'uomo, titolare della ditta individuale e operante come agente e rappresentante di prodotti non alimentari, si è reso responsabile della distruzione delle reali scritture contabili per impedire la ricostruzione corretta dei redditi conseguiti. Oltre alle sanzioni amministrative, l'imprenditore è stato deferito alla Procura della Repubblica di Pesaro, la quale ha poi dato il via al sequestro dei beni in possesso dell'uomo. L'azione della Guardia di Finanza si inserisce nel quadro di operazioni volte a contrastare i fenomeni di illegalità messi in atto dalle imprese che frodano il fisco e a difendere invece le imprese e i contribuenti onesti in un momento in cui la crisi sanitaria ha indebolito anche il sistema economico locale. Ed ora parliamo di sanità perché l'assessore regionale Filippo Salta Martini ha annunciato ieri le prossime tappe della campagna vaccinale che dopo le somministrazioni per gli over 80 in partenza questo sabato si aprirà dal primo marzo per il personale scolastico e non solo. Numeri ottimi per le prenotazioni degli anziani over 80 e dal primo marzo al via i vaccini per il personale scolastico ai quali seguiranno gli operatori di polizia, le forze armate, la protezione civile, le magistrature, le prefetture e le questure. Questo è il quadro che racconta le prossime tappe della campagna di vaccinazione come spiegato dall'assessore alla sanità regionale Filippo Salta Martini. Inizieremo il 20 febbraio la vaccinazione delle persone che hanno più di 80 anni, le prenotazioni online per telefono stanno andando molto bene, quindi abbiamo ormai più della metà del target prenotato e in 21 giorni noi completeremo, se tutti si prenoteranno, la vaccinazione con Pfizer dei 133.000 persone che hanno più di 80 anni. Poi inizieremo nei prossimi giorni la prenotazione per chi non può deambulare o non ha la possibilità di raggiungere i punti di vaccinazione e per questa ragione metteremo a disposizione dei cittadini un punto su una piattaforma delle poste italiane e un numero di telefono. Contestualmente avvieremo la vaccinazione del personale della scuola, inizieremo il primo marzo, il personale delle forze di polizia, armate, protezione civile, magistrature, prefetture, questure, il 2 con i vaccini AstraZeneca. Finora questo processo di vaccinazione ha riguardato il 90% delle persone che sono in RSA. Abbiamo messo in programma il completamento della vaccinazione in questa settimana, completeremo sempre in questa settimana tutto il personale della sanità. L'assessore Saltamartini ha poi affermato che se la consegna delle dosi verrà rispettata e dunque non subirà modifiche o ritardi, in tre settimane si concluderà il ciclo di vaccinazione riservato agli over 80. Il percorso proseguirà poi con la somministrazione del siero alle persone fragili, ovvero tutti quei soggetti affetti da patologie mediche croniche e dunque più vulnerabili ai rischi del Covid. L'assessore ha poi parlato dell'accordo in via di definizione con i medici di famiglia per il loro coinvolgimento diretto nella campagna di vaccinazione. Contiamo a chiudere l'accordo in modo tale che anche i medici di famiglia possano aiutarci nella vaccinazione domiciliare delle persone che non possono accedere ai punti di vaccinazione e anche per quanto riguarda un aiuto dei medici di famiglia potrà essere utile negli stessi punti di vaccinazione. Teniamo conto che tutta la struttura dei distretti, i medici USCA e anche le ADI, l'assistenza domiciliare integrata, contribuirà a completare il quadro delle vaccinazioni che riguardano appunto queste persone che se dovesse essere colpite da Covid-19 rischierebbero molto. Quindi invito tutti i figli, i nipoti, gli amici ad accompagnare nei punti di vaccinazione queste persone. È un gesto di grande solidarietà, un bellissimo regalo accompagnare queste persone che rischiano appunto per la somministrazione di questo vaccino che ha finora dimostrato un'altissima efficienza contro il Covid-19. Le farmacie comunali di Pesaro e Gabice partecipano alla campagna vaccinale promossa dalla Regione Marche tra gli ultraottantenni in partenza appunto questo sabato. Da domani infatti gli over 80 che hanno difficoltà nella prenotazione tramite il portale internet o il numero verde per ricevere assistenza si potranno recare in una delle 10 farmacie comunali muniti di tessera sanitaria e telefono cellulare dove arriverà una volta terminata la procedura il codice di conferma dell'avvenuta prenotazione. Ed ora la consuetta pagina per gli aggiornamenti del coronavirus attraverso il servizio sanità della Regione Marche che oggi ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.891 tamponi, 3.483 nel percorso nuove diagnosi, 2.408 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 471 con 85 casi in provincia di Pesarurbino. Ancora alto il numero dei decessi nella Regione. Ieri sera il servizio sanità ne ha notificati 15. Una vittima era residente nel comune di Fano. Ed è arrivato il via libera dalla giunta comunale per l'attivazione del bonus Tari. Il contributo di mezzo milione di euro riservato alle attività commerciali in difficoltà a causa della crisi chiaramente generata dal Covid. Una misura di sostegno economico per le imprese del territorio di cui ci parla meglio in questa prossima intervista l'assessore del comune di Pesaro con delega alle attività economiche Francesca Frenquellucci. Il bonus Tari consiste in un bonus del 40% in base al pagamento che è stato fatto nell'anno 2020. Le attività che potranno usufruirne sono quelle attività che hanno avuto un calo del 30% rispetto all'anno 2019. Abbiamo risposto alle attività e alle associazioni di categoria dopo aver avuto vari incontri in questi mesi. Dovevamo in qualche modo dare una forte risposta anche per le difficoltà del nostro territorio. In questo modo il sindaco, la giunta, dà dimostrazione che crede nelle proprie imprese. Quest'azione diciamo che siamo i primi a farla in maniera così forte. Le imprese che potranno usufruire del bonus Tari sono gli alberghi, i ristoranti, le trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense e anche le attività che hanno avuto limitazioni nei centri commerciali dovute al DPCM. Abbiamo cercato di pensare a quelle attività che hanno avuto delle restrizioni, che hanno avuto quindi più difficoltà a lavorare in questi mesi. È importante che abbiano già comunque pagato la Tari e devono essere regolari con i pagamenti precedenti. Verranno rimborsati e l'abbiamo chiamato bonus, anche come abbiamo fatto con il blocco attività o con altre azioni concrete per aiutare le imprese del nostro territorio. Per richiederlo uscirà nel sito del Comune un modulo che sarà da compilare, ci sarà un'autocertificazione, quindi è fondamentale perché poi verrà fatto un controllo anche dopo che saranno erogati i soldi nei conti correnti, quindi è importante attenersi alle regole del bando. È stato anche fondamentale in precedenza il bonus che è stato dato ai cittadini in difficoltà e anche al bonus per far la spesa perché abbiamo visto che si è creato un indotto nella città di Pesaro di un milione di euro e l'ufficio attività economiche sta erogando le attività che hanno ricevuto i bonus e notiamo che ci sono molte piccole e medie imprese. Quindi è stato molto importante puntare anche su questo. C'è stata molta disponibilità da parte delle imprese che ci hanno subito mandato il loro indirizzo, il numero telefonico per fare in modo che nella lista che era stata messa nel sito del Comune e potessero le persone sapere dove andare a consumare il bonus. Questo è servito e abbiamo visto che in maggioranza sono le piccole e medie imprese. Dal 22 febbraio al 22 marzo sarà possibile fare domanda per i contributi del Fondo Anticrisi stanziati dal Comune di Pesaro. Utile a sopportare famiglie e cittadini nelle spese d'affitto o nel pagamento delle rate del mutuo della prima casa. Potranno fare domanda a coloro che sono in affitto o pagano il mutuo della prima casa. Hanno in famiglia almeno un componente non occupato o precario per la crisi generata al Covid e con un'isee fino a 18 mila euro. Per le informazioni complete e l'invio della domanda è possibile visitare il sito del Comune di Pesaro. Il nuovo testimonial della Regione Marche è il CT della Nazionale di Calcio Roberto Mancini. lo ha stabilito oggi la Giunta regionale con una delibera che individua il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, originario di Iesi e sportivo di fama internazionale, come testimonial per la promozione turistica della Regione Marche fino al 2023. Il segretario della CNA di Pesaro Urbino, Moreno Bordoni, ha fatto visita questa mattina alla BMG di Pesaro, l'impresa specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione. L'azienda di Via Iesi, diventata famosa per la sua originale insegna, taglia il traguardo dei 33 anni di attività che hanno portato la società a diventare una delle più importanti della Regione nel settore. Ed è arrivato da più voci il cordoglio per la scomparsa di Paolo Giovannelli, storico barbiere conosciuto e stimato in tutta la città, che aveva chiuso il suo salone di Via Cecchi poco meno di due anni fa. Giovannelli è deceduto a causa del Covid, di cui si era ammalato dallo scorso mese di dicembre. I funerali si terranno domani, giovedì 18 febbraio, alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria del Porto. Ed ora ci spostiamo a Monbaroccio, dove si è da poco concluso un nuovo screening riservato alle scuole del Comune. A parlarcene quindi in questa prossima intervista il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci. Abbiamo proceduto tra venerdì e lunedì al secondo giro di screening presso le scuole primarie e secondarie di Monbaroccio. Abbiamo dovuto dare quella continuità che serviva al primo screening che abbiamo fatto intorno alla metà di gennaio per capire insomma qual era lo stato dell'arte e quale fosse la foto di questi ragazzi che purtroppo si trovavano in parte anche in quarantena perché sulle cinque classi che abbiamo nella scuola primaria la prima e la quinta erano in quarantena e successivamente è andata in quarantena anche la quarta elementare. Pertanto volevamo capire come stessero il ragazzo, i ragazzi e le ragazze e la quarantena è scattata per una positività di un insegnante. Abbiamo dovuto suddividere gli screening quindi in tre fasce, quelli che frequentavano la scuola potevano farli in palestra come nella precedente situazione mentre coloro che erano in quarantena gli abbiamo sottoposti il tampone tramite un drive esterno che è stato fatto venerdì dopo i tamponi in palestra nella seconda mattinata per la prima e la quinta elementare mentre abbiamo dovuto fare quelli di quarta elementare il lunedì sempre col drive anch'essi in quarantena appunto e affronta appunto dalla distanza di dieci giorni prevista dall'Istituto della Sanità. E' andata bene perché fortunatamente i ragazzi erano tutti negativi e abbiamo dato la possibilità di fare lo screening anche ai genitori cioè coloro che accompagnavano i ragazzi durante il drive e lì è venuto fuori una positività pertanto un bambino purtroppo dovrà continuare la quarantena con la propria famiglia. Siamo soddisfatti del percorso e adesso massima attenzione nel rispetto di tutte quelle che sono le normative da rispettare mascherine, igienizzazione, distanze ma soprattutto massima attenzione perché vorremmo capire come e se si proporranno queste varianti che ci preoccupano e quindi avanti così le scuole sono sicure e speriamo che rimangano tali. Mi permetto anche di dire che lo screening è stato fatto naturalmente a tutte le insegnanti e gli insegnanti, a tutto il personale scolastico e a tutti coloro che gravitano intorno al mondo della scuola. Un grazie per la collaborazione alla Polizia Locale e anche al gruppo di AMS che sono l'Associazione Nazionale Polizia di Stato in congedo che ci hanno permesso in particolar modo nel drive esterno di salvaguardare la sicurezza e ordinare i flussi delle autovetture che gravitavano intorno alla scuola appunto per i tamponi che abbiamo fatto nella posizione esterna. Quindi un grazie a tutti coloro che hanno collaborato e un sempre grazie alla scuola. Ed arriviamo all'ultimo spazio del nostro telegiornale. Torniamo a Pesaro e continuiamo a parlare di scuola perché prosegue il progetto portato avanti dagli studenti del liceo scientifico Marconi che dopo il flash mob organizzato due settimane fa in Piazza del Popolo per ricordare Giulio Reggeni questa mattina hanno potuto incontrare in modalità online i genitori del ricercatore italiano scomparso e deceduto in Egitto nel 2016. Questo diciamo è l'ultimo degli incontri riguardanti questo progetto assemblea oggi avremo l'onore di incontrare e di parlare con i genitori di Giulio e anche con l'avvocato avremo l'occasione di fargli domande di chiedergli appunto in maniera diretta qual è la loro esperienza. Questo progetto è nato dalla volontà di richiedere verità e giustizia per Giulio infatti noi ragazzi siamo molto uniti sotto questo punto di vista perché ci teniamo che la nostra voce venga ascoltata riporteremo anche alcuni dei momenti belli vissuti alla manifestazione un video riassuntivo, delle canzoni leggeremo alcune lettere scritte da studenti del liceo e poi sarà un momento comunque colloquiale chiederemo in maniera diretta le loro emozioni, le loro esperienze soprattutto cosa possiamo fare concretamente per aiutarli, per aiutare Giulio. L'emozione è tanta finalmente riusciamo ad incontrare anche se virtualmente i genitori che avevamo sentito solo telefonicamente come anche l'avvocato quindi l'emozione è tanta e speriamo che l'incontro sia emozionante per tutte le classi e tutti gli alunni. Saremo tutte le classi del liceo scientifico più altre classi dalle altre scuole di Pesaro quindi supereremo gli oltre 1800 studenti tutti i video collegamenti che seguiranno la diretta su YouTube. Oggi è la giornata conclusiva quindi è l'ultimo step di questa assemblea anche se vogliamo che non finissia qui nel senso che tutti continuino a chiedere verità e giustizia per Giulio per sempre. È stato un momento molto bello perché è stato un progetto integrato dei rappresentanti dell'istituto un po' con il nuovo percorso di educazione civica quindi abbiamo avuto la fortuna anche noi docenti di formarci insieme a loro e sia con l'aiuto dell'avvocato Ballerini e dei due genitori di Giulio, di Paolo e Claudio e abbiamo avuto la fortuna di essere aiutati da Amnesty, da Riccardo Nouri quindi molti momenti di formazione anche per noi docenti quindi è bello quando la scuola vede insieme studenti e docenti formarsi per costruire qualcosa di una società migliore. L'incontro di oggi arriva dopo l'ottima riuscita dell'evento di due settimane fa in Piazza del Popolo. Sì, i ragazzi sono stati eccezionali quindi veramente è bello quando i ragazzi si attivano soprattutto dopo un periodo così difficile di chiusura e di lockdown vederli proprio ripartire per costruire qualcosa di bello penso sia una cosa molto bella per noi docenti. E siamo arrivati alla fine di questa edizione del nostro telegiornale andiamo subito a vedere quella che sarà la programmazione di Rossini TV Questa sera trasmetteremo alle ore 21.15 un tavolo tematico dedicato alla casa e all'arredo che abbiamo registrato presso l'azienda Scavolini in collaborazione con la Regione Marche un vero e proprio osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente. E vi ricordiamo anche che domani sera torna una nuova puntata di Insieme a Canestro alle 21.15 non perdetevi la puntata di domani sera perché avremo degli ospiti importantissimi chiaramente si commenterà il risultato delle Final 8 quindi Marco Cadeddu intervisterà Luciano Amadori, presidente del consorzio Pesaro Basket Ario Costa, presidente della VL Walter Magnifico, brand ambassador della VL e Franco Bertini, ex giocatore giornalista. Ed ora vi lascio con il meteo e vi do appuntamento a domani alle 7.20 con la nostra rassegna stampa. Buona serata.